Evidentemente di attesa, evidentemente non c'è stata ancora chiarezza sui principi della delega e quindi ha fatto benissimo ad astenersi e l'astensione è ovviamente una sorta di favorevole attesa. Aspettiamo che il provvedimento arrivi alla Camera e vediamo se alla Camera ci sarà più chiarezza e ci sarà necessariamente perché in commissione presieduta da Damiano non potrà non esserci uno scontro all'interno del PD e se ci sarà lo scontro ci sarà chiarezza.